Regala un massaggio o un trattamento benessere? La Gift Card Tiaree è un regalo originale, ideale per ogni occasione e adatto a tutti. Puoi scegliere tra un'ampia gamma di servizi wellness, dei massaggi corpo e trattamenti viso, oppure i rituali del benessere. Acquistare la carta regalo è semplicissimo, è possibile richiederla direttamente in studio, oppure si può acquistare online da casa e donarla ad amici, parenti o chi ti sta a cuore. La Gift Card Tiaree è il regalo perfetto per sorprendere, un'occasione per regalare un momento di benessere e relax. Per maggiori informazioni contattaci telefonicamente o via whatsapp al 351 650 4900. Il benessere ti aspetta, guidati a re!